Un'altra avvocatessa, che è anche professoressa, l'avvocato Patano, Daniela Rita, che si occuperà dei futuri concorsi, del personale, ma anche della polizia locale e della protezione civile. Che dire, buona la prima, la squadra è buona, è erogenea, sono soddisfatta, orgogliosa di investire questo ruolo, anche io sono la prima esperienza, però credetemi ho tanta grinto, un po' solo di carattere, quindi la metterò proprio nella mia esperienza qui al comune di Foggia, ho io una ragazza della tua età, Alice, che ha deciso di stare a Foggia, diventerò anche nonna, e quindi credo che questa città deve cambiare, non può che cambiare, quindi dobbiamo lottare per farlo, per le nuove generazioni, mi sento già un po' un passo indietro, e qui non va che migliorata, come dicevo la squadra è buona, quindi ce la possiamo fare, le competenze ci sono tutti, che siamo una squadra variegata, la posta ci sta, la volontà pure, auguriamoci un buon lavoro.